Alvia, testa finale, 5.000 a punti. Subito in testa una plega di casa. 212, Amonimo, sul passaggio di Meo e Trey, 1.000 a ben compatto. Sul passaggio Campana e dal prossimo giro, punti. 9, 7, 0, 39 ai primi punti. 9, 70, 18. Il terreno di casa continua a mantenere la testa. Attenzione, un po' l'aiuto. 3, 4, 39. Attenzione, un po' l'aiuto. 18, 970, un passaggio di meno di 17. 9, 7, 970, un passaggio di meno di 17. 3, 4, 212. 218 218 un passaggio di 9 un passaggio di la concentrazione 208 un passaggio di 10 un passaggio di 4 un passaggio di un passaggio di la concentrazione è stato un passaggio di la meta del patria 10 ma i punti sono 24 e 5 a 2 il gruppo si è un po' più allungato 24 e 5 a 2 3 e 4 e 5 ma la mia vita la sofferenza 24 e 364 sul passaggio di meno 8 vai Gabi 3 e 4 e 6 a 2 18 e 24 un traguardo allunga l'atleta della Padernese 5 e 5 5 e 6 a 2 2 e 6 a 2 5 e 6 a 2 5 e 6 a 2 5 e 6 a 2 5 e 6 a 2 5 e 6 a 2 5 e 6 a 2 364 39